Buongiorno, ciao, ciao, buongiorno, bene, bene. Che bella visita, grazie. Ho intanto ci sta facendo di nuovo. Bene, fantastico, bene. Allora, stai seguendo? Assolutamente sì, verrò anche prima possibile, verrò anche da tu, vi ho promesso. Stai accompagnati, so che c'è anche un nuovo direttore, giusto? Che ha la nostra conoscenza. Bello, sono contento, quindi stai facendo un grande campionato, bello, siamo contenti e vi sosteniamo alla grande. Grazie, siamo facili anche noi che stiamo facendo bene. Sì, sì, stanno facendo bene la squadra, veramente. Vabbè, c'è stato il playoff, vediamo l'ora. Bene, stai. E' un po' troppo avanti. E' quella che diceva, alla fine del secondo girone. Ma soprattutto ci serve altra energia, quindi. Eh sì. Eh, infatti, infatti. Noi siamo venuti qua per chiederti altra energia. Ah, ho capito. C'è stato di impreggerato. C'è stato di impreggerato. C'è stato di impreggerato. Bene. Bene, bene. Ottimo. Ok. Ci vediamo. Grazie, ragazze. Alla prossima. Ciao. Come ti trovi qui? Bene, bene. Mi piace, veramente sì. La squadra, a me ti piace? Sì, certo. Siete tutte cariche. Mi trovo bene con tutte, veramente. Sì, no male. Questo è l'importante, perché poi la squadra è tutto, diventa come una squadra di donne. E' vero, però è tutto, perché poi si dice sempre che i match non si vincono con la bravura individuale, ma si vincono con la squadra. Con le sue popoli. E la squadra deve pensare all'unisono, tutti insieme. E' vero, sì. Però la vincita deriva quando è un affiatamento generale. No, forse voi hai ragione. E' un po' il scopo anche del nostro lavoro, ma penso un po' dell'ambito sportivo, dell'ambito lavorativo, penso che si possano... Sì, siamo un po' molto pessime, diciamo, comunque si è riuscita da una parte che dall'altra. Esatto, sono discorsi, diciamo, che si possono avvicinare sotto questo profilo. E' vero, è vero. E' vero, è vero. Esatto, sono discorsi, diciamo, che si possono avvicinare sotto questo profilo. Esatto, sono discorsi, diciamo, che si possono avvicinare sotto questo profilo. E' vero, è 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 vero. E' vero, è vero, è vero, è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.